Quando siamo stanchi, delusi, tristi e pensiamo di non farcela, va bene, non chiudiamoci noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai. Questo l'ha detto, credo qualche settimana fa, Papa Francesco. Allora, per me era importante iniziare così, come le altre dirò sicuramente cose che avete già sentito, però fatemele dire perché sennò capite che non ce la facciamo. Allora, ciao a tutti, io sono Manuela e la fibromialgia mi si è rivelata circa due anni fa, rivelata perché molto probabilmente è iniziata decenni prima. Questo è vero per tutti, è vero per tutti. Voi dovete andare indietro nella vostra storia, cioè io a 5, 6, 7 anni avevo una colonia di muffa nel mio umbilico, è disgustoso, vero? Avevo i piedi con la muffa. Un sciocco. Si chiamano persone muffose come me, no, non sto scherzando, no, quello è il mio talone di Achille, guai che poi dopo mi trovo in una casa per 5 anni con la muffa, allora mio corpo ha retto e poi dopo è esplosa la fibromialgia, ma in Vittoria avevo problemi delle caviglie, delle tendere, altre persone, problemi gastroenterologici. Ci sono, se noi guardiamo indietro, a 8 anni ce l'avevamo una cosa inspiegabile, a 12 anni un'altra cosa inspiegabile. Dai sintomi della fibromialgia, che ho messo tutti i sintomi, sono anche lì in fondo, c'è sempre qualcosa che facciamo un tracciato, c'era, perché c'è una predisposizione, spesso c'era. Vai. All'inizio ero incredula, basita e soprattutto devastata dai dolori e dall'incognita di una malattia che non conoscevo e che sembrava che nessuno conoscesse. Incurabile, dicevano, senza alcuna speranza che non fossero antidolorifici o psicofarmaci. Noi tutti sappiamo cosa vuol dire farci rivoltare come un calzino, esami, analisi, medici che ti visitano e ti fanno male, terapie vecchie e nuove, nella illusione che si siano sbagliati, che tanto ora tutto sia giusta. E intanto il dolore è lì, continua e non si ferma, non arretra, ma aumenta, si prende anche l'anima. Mi sentivo sola, inutile, quasi un peso per la mia famiglia. Come avevo detto, gestione dell'emotività, bisogna lavorarci. Quasi un peso per la mia famiglia, nonostante avessi accanto una persona eccezionale che non mi ha mai fatto pesare nulla. La mia autostima cadeva sempre più in basso, non facevo altro che chiedere scusa, di sentire dolore, di non potermi alzare dal letto, di trascinare la gamba mentre cercavo inutilmente di camminare, quasi fosse una mia colpa. Iniziavo a non avere più fiducia nella mia capacità di reagire, mi sentivo quasi sopraffatta da quanto mi stava succedendo. Ed ecco per caso, anche se credo che le coincidenze non esistano, ho conosciuto Evelyn e là mi si è aperto un mondo, il mondo, e la rinascita è iniziata. Fate conto circa, ho conosciuto Evelyn nel settembre del 2012, dopo pochi mesi che mi avevano semi diagnosticato questa malattia. Ho imparato che dovevo mettermi in gioco, credere in me e nelle risorse che possedevo, riappropriarmi del passato e scommettere sul futuro. Ho imparato a volermi bene, ho imparato a non disperarmi. Ho imparato a trovare dentro di me la forza che mi serviva per aiutare me stessa e crescere. E lo so che è fatica, sforzo immane, che il dolore e la fibra ci bloccano qualunque pensiero positivo, che vorremmo solo lasciarci andare, che è come un fiume che ci trascina in basso. Ma ho imparato che solamente noi possiamo dire basta e mettere a tacere quella sub della vocina che continua a ripeterci che non ce la possiamo fare. E così ho fatto. Con l'aiuto di Evelyn ho imparato a mangiare bene, a mettermi al primo posto, a curarmi e ad ascoltare il mio corpo. E ho imparato ad aprire il mio cuore senza remore, senza condizioni, finalmente consapevole di me stessa e di quello che sono. E di quanto sono capace di fare per me e per gli altri. Se non ci scoraggiamo, se non ci disperiamo, se apriamo il nostro cuore e la nostra mente, troveremo che lì accanto a noi ci sono tante persone che vogliono aiutarci, che ci amano, che ci sorridono, che ci ascoltano. E non solo nel viso dei nostri familiari o dei nostri amici, ma anche in quello della vicina di casa, della catechista della parrocchia, della maestra dei nostri figli, del portinaio, o del collega di lavoro o di una conoscenza inaspettata e imprevista. Magari non conoscono il dolore atroce, fisico, persistente che ci attanaglia in quel momento, che ci fa quasi perdere il senno, ma sono lì con noi, ci tengono la mano, ci fanno una carezza, una telefonata. Una parola di conforto soffrono insieme a noi, insieme a noi combattono questo demone e insieme a noi escono dal tunnel, poco a poco, piano piano, lentamente, ma inesorabilmente. L'amore vince su tutto, e l'amore per noi stessi è la molla fondamentale, è la pietra d'angolo che tiene su ogni cattedrale. La fibromialgia prova a chiuderci dieci, cento e mille porte. Noi spalanchiamo quella del nostro cuore e la sconfiggeremo insieme. Ricordatevi sempre, ve l'ho scritto lì dietro, il dolore se condiviso si dimezza, la gioia se condivisa si raddoppia, questo è il vero segreto. Grazie Evelyn e soprattutto, grazie. Di solito gestiamo l'emotività, sto scherzando, sto scherzando. No, ma quando ho incontrato lei, erano cinque mesi che lei era a casa dal lavoro, no? Poi dopo è riuscita a? Sono riuscita a tornare, ma da fine gennaio l'ho lasciato. Non perché non ce la facessi, non perché non riuscissi a sollevare il mouse, che era anche una delle cose invece che mi aveva lasciato a casa dal lavoro, ma perché era diventata una fonte di stress. E mi sono detta, anche no. Mi sono cadute un paio di monete dalla tasca, però sicuramente sto molto meglio. Sto molto meglio, non devo avere una fonte di stress in più, che già la vita ce ne mette davanti tante, e ho potuto scegliere. E vi assicuro che è stata una delle cose migliori che mi sia capitata. E poi dopo però, una delle cose che devi fare è iniziare questa nuova attività di gastronomia. Sì, vorrei dire che poi dovrò mettere il numero di telefono. E va bene, mettiamo il sottotitolo in sotto, però qua stiamo parlando di un cambiamento proprio radicale. Cioè anche lì abbiamo gestito anche lei al lavoro, che sembrava una specie di mini bobbing, invece poi dopo è riuscita a gestire benissimo la cosa, perché già noi, tra noi, immaginiamo che gli altri, gli altri, invece lei è riuscita a gestire come una stratega proprio tutto l'ufficio, tutto per far sì che... Alla fine lei l'ha lasciato, ma era lei che andava dentro, che gestiva, faceva e viveva bene in ufficio, da prima che era tutto una cosa. Poi dopo lei vorrebbe aprire questo... La cuoca per te. Sì. Ecco, si chiama così la cuoca per te. Io non mangio, però cucino. Sì, cucina. E questo mi dà una soddisfazione. Ed è molto brava. Ok. 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 Grazie a tutti